Per la prima volta farò il bagno a mia sorella, quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace a 15.000 like e 24 ore legato a mia mamma Buon day! Benvenuti in questo nuovo video vlog Lasciate già un bel mi piace, scusate se sono stato assente per 4 giorni e ho saltato un video Ho cesso un botto di cose, ho fatto un botto di roba, sono stato tanto impegnato, ho saltato un video Quindi spero voi mi possiate perdonare, sono tornato a bomba con un nuovo video che tipo yeah Oggi la mia felpa appettacolo nera, mi raccomando, trovate il link in descrizione per il sito del merchandising Il più bel merchandising in Italia userei dire, dove trovate magliette e felpe Ovviamente se acquistate qualcosa caricate lo screen su Instagram taggandomi e io vi farò una videochiamata su Instagram Se non mi seguite andate a seguirmi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Visto che il video dove sono stato 24 ore legato a una mia fan vi è piaciuto un sacco Oggi ho deciso di riproporlo ma con un'altra personcina, ovvero mia sorella Qua le manette, ora io mi leggo, sto cercando di legarmi Ok, adesso andiamo anche a legare mia sorella Sto registrando un vlog e dovresti chiudere un momentino gli occhi perché ho una sorpresa da farti Chiudi gli occhi, tira su le maniche No perché? Tira su le maniche, non ti faccio niente, vai tranquilla Giuseppe, no Sì E non riesco Ce l'ho fatta, rega No, sei slacciata, sei slacciata Attaccati Attaccati Passerà 24 ore Indovina un po' Legate a me A tuo fratellino A tuo fratellone Quindi inizia ufficialmente ora il video Mi raccomando lasciate un bel mi piace Perché io e mia sorella passeremo 24 ore legate insieme E mia sorella è felice di questo Allora io adesso devo uscire, sono in macchina, devo uscire in macchina La situazione è questa, io non so come farò a guidare Speriamo non ci fermino Questo video è abbastanza illegale La sorreggi? Avvicino un attimo, abbraccio Ok Mettiamo la musica Che possiamo fare a mettere musica secondo te? Cinturatura è attaccata? No Facile Sto arrivando, sto scendendo Ciao Allora siamo appena tornati a casa Ovviamente siamo sempre legati Cosa faccio io per caricarmi in ogni mio video? No Cosa? No Non è che tu fai balli No Martina Cosa faccio per caricarmi? Per prenderla a carica Il caffè? Esatto No dai Vabbè Allora Accendi la luce Caffè, 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 caffè Tieni la telecamera Ti puoi riprendere anche tu No Perché no? Allora ragazzi mi raccomando se volete altri video come questi iscrivetevi al canale E se siete nuovi iscritti cosa devono commentare? Nuovi iscritti Hashtag nuovo iscritto Perché vi darò il benvenuto personalmente Vi metterò un curcino Lo faccio sempre Se non ci credete andate a controllare Martina Tutto ok? Ho la faccia strabica Sei strabica? Ma non è vero No non è vero Mi raccomando andate a seguire questa personcina su Instagram Che ti puoi riprendere Martina Trattino basso Trattino basso Indovinate un po' Barbuto E chi l'avrebbe mai detto? Commentate Sotto anche con Una persona con cui vorreste che io stassi legato 24 ore Tra l'altro nel video dove La mia ex ragazza comandava la mia vita per 24 ore La signorina Voleva comandare la mia vita per 24 ore Un sacco di gente ha commentato Tua sorella, tua sorella, tua sorella Quindi la prossima volta Mia sorella comanderà la mia vita per 24 ore Oggi la comando io In fin dei conti perché L'ho ammettata a me E facciamo tutto quello Che dico io Carica, carica Eh arrivo Ragazzi questo video e questa challenge è Di una difficoltà assurda So che non sembro Ma far tutto insieme A me ne state appiccicati E dover usare solo praticamente una mano È difficile E alla fine mi sta facendo anche il caffè mia sorella Mia figlia Mia sorella Ho detto alla fine mi sta facendo anche il caffè mia sorella No ho detto mia sorella Quindi ci vediamo tra poco il caffè Con quale destrezza ragazzi Poi tra l'altro dovete sapere che mia sorella È mancina E sta usando la mano destra Quindi è ancora più in difficoltà Giuro Giuro che è mancina Lo zucchero l'ho messo Alzati che non ci arrivo Alzati Che schifo è zucchero di canne Eh bene Buono Dai dai veloce Che ho voglia di caffè Se no qua non ci si carica Tutto ciò sto facendo tutto io Eh beh grazie Io sto filmando Sei la mia schiava oggi Commentate con hashtag Martina Schiava Devi girare Aia No dai Vuoi dire che tiro io Non bevi il caffè Bisogna Dai vedi Ragazzi è arrivata mammina Guarda un po' mamma Grande mamma Pettacolo anche lei Cosa state facendo Siamo manettati per 24 ore Bravi allora cominciate a mettermi la tavola Andiamo a metterla tavola Come faremo a metterla tavola La metti tu Ti voglio vedere Ragazzi è una sfida Se questo video arriva a 15.000 like Farò 24 ore ammanettato con mia mamma Ah bello mio Pensa che a me manco ha avvisato La Martina l'aveva avvisato Quindi mi raccomando Tutti lasciate un bel mi piace Createvi 100.000 account Per lasciare mi piace Martina prepara la tavola Ah io No scusa io ho già fatti il caffè Mamma vieni a riprenderci Mentre prepariamo la tavola dai No be' Aia Si è fatto male Poverino Dove prende per in giro Per in giro Per in giro Hashtag per in giro Martina mi devi seguire Non spaccate Dove vai? Dove vai lì? Aia Non ancora Fa male Fa male Perché non A me no Perché anche si La tovaglia La tovaglia Dove è? Nel cassetto Ma chi sta apparecchiando? Tutto dove? Ah ok No niente Che lavoro di squadra Mi fai cadere? Stai mi devo fermo doccia Martina sto facendo tutto io Ehi non male Preparata? Allora è un genio Perché mi ha malettato a me la sinistra Mi si mi ha malettato la destra Eh però mancano i bicchieri Mancano i tovaglioli Mamma mia pizzeria Mamma mia pizzeria Allora ragazzi Questo è il tutorial Come spaccare un bicchieri No No Prank Prank Tovaglioli Eh? Tovaglioli non li avete messi Tovaglioli Ma abbiamo quattro mani Usiamo Stiamo facendo avanti e indietro Come si riuscita Tovaglioli non sono nel freno Ok Devo prenderla L'acqua Cazzo Eh devo andare a aprire Allora ragazzi qua tocca anche cenare ammanettati Le acque minerali Sono tutti uguali Per questo scelgono Il giorno Mi delbura Dato simili Quindi E il cesto Che lo fa nel modo più semplice Per fare Facendovi fare tanta Pling pling Ragazzi fate un botto di screen Pubblicatele su Instagram E taggate mia sorella A me Hashtag Barbuti legati Barbuti legati Allora ragazzi ci siamo staccati un momento Infatti le manette sono qua Perché logicamente ci tengo a dirlo Perché mia sorella si è andata a spogliare Che adesso dovrà fare il bagno E poi ci riattaccheremo Ci tengo a dirlo amica che poi Dite ma come ha fatto a spogliarsi se eravate legati Ecco Quando che aspettiamo mia sorella Volevo chiedervi un parere Ho preso queste scarpe nuove Della fila Commentate Nei commenti Se vi piacciono o meno Commentate Sì mi piacciono le tue nuove scarpe No Non mi piacciono le tue nuove scarpe Grazie Per la prima volta Farò il bagno A mia sorella Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace A 15.000 like A 24 ore legato a mia mamma Sei pronta? Più o meno Allora Mamma mia No Ma c'è Una, due, due Allora dimmi se è calda Va bene No Ha gelato Ha gelato? Sì Adesso è calda Sì Via Povera Povera Martina Seppi basta Questo è il video più trash che io abbia mai fatto Commentate con l'hashtag Martina Torturata Allora dopo questa scena super trash dove lavo mia sorella Il video termina qui perché adesso andiamo a dormire Adesso mi sono andata ad asciugarsi Quindi mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace Commentate con chi dovreste restare legato 24 ore Io vi mando oltre a mia mamma Io vi mando un bacione Ci vediamo al prossimo video perché ogni due giorni esce un nuovo video Yeah Spettacolo Ciao 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 Ciao